Siamo qua oggi a presentare le nostre soluzioni perché crediamo molto nel settore ceramico e abbiamo interessanti novità da proporre agli operatori. Zanasi a Sassuolo da oltre 41 anni progetta e costruisce soluzioni nell'ambito della marcatura a getto d'inchiostro. Oggi noi esponiamo delle soluzioni per la codifica della biastrella in ogni suo punto e ci interessiamo anche di quello che è la codifica nell'ambito extra ceramico. Ho l'occasione per presentare qui a All4Ties una soluzione in alta definizione per la codifica di materiale assorbente e non assorbente grazie all'utilizzo di una lampada UV. Serve per polimerizzare l'inchiostro permettendo in questo modo la sua fissazione istantanea su materiale assorbente e non assorbente. Pensiamo che sia essenziale per questa nuova versione, questa nuova veste di All4Ties, quella di essere una fiera e non solamente un momento di condivisione tramite convegni, l'importanza di essere annuale. All4Ties Grazie a tutti.